L'onda di paura riversata sin sui mercati dopo l'11 settembre, la crisi delle compagnie aeree e i consumi momentaneamente sospesi, è stata decisiva per l'organizzazione della rete. E internet che altro è se non una rete? E questa è la risposta del nuovo secolo. Non più corazzate, blocchi, ma strutture agili, nodi collegati da ragnatele. Il rimedio alla crisi erano i sieve, veicoli di investimento strutturato, e poi le dark pool, piattaforme da cui i soldi passano senza lasciare traccia del passaggio. Lì la titolarità dei fondi sfuma in un polverio di sigle, di società inscatolate, di azzardi da far sparire e di denaro che si autogenera mediante successive operazioni in leva. Se la gente non ha più soldi per comprare, ma il consumo deve procedere, non resta che una strategia del debito. Il debito si può nascondere nei meandri delle invenzioni finanziarie, ma i buchi prima o poi qualcuno li scoprirà.